Santerasmo smentisce la reincarnazione Pubblico questo prezioso documento risalente a ben 27 anni fa, quando Virgilio aveva appena iniziato la sua attività di sperimentatore. Il documento infatti è stato da me ritrovato nel riordino delle carte di Virgilio. Da alcuni mesi Virgilio stava leggendo dei libri circa la teoria della reincarnazione, quando una sera, nel corso di una registrazione, Santerasmo lo rimproverò con una certa durezza con le seguenti parole. Non lo fare più! Che te ne fai di leggere il colloquio sui libri? E si dovrebbe chiudere lì. A te forse piacerebbe di più che tu laggiù ritornassi, e invece non finisce così. E se facessi te più di due vite, tornerebbe laggiù quello che è di qui, questo naturalmente un miliardo di volte. e perciò devi istruirti sempre più lì. Leggi tu qui i miei racconti, la notizia qui. Ti indirizza, apprendi notizie qui tu, e prove incredibili qui trovi. Troviamo difficile far capire le notizie nuove, che aggiungo di qui. Ho altri dieci secondi per farti capire che non si deve tornare più lì. ed hai qui il tempo sprecato sempre più tu. Ne hai fatte di più cretine le domande. Grazie. 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 Grazie.